Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 12, dove si segnalano due chilometri di code a tratti per lavori tra l'allacciamento con il raccordo Lucca-Viareggio e Velsilia in direzione Genova. In A1 in direzione Bologna, tratto chiuso per lavori tra Aglio e Roncobilaccio. Spostandoci sulla FIPILI, due chilometri di coda per lavori tra Lavoria e Pontedera-Ovest-Ponsacco e code tra Cascina e la dilamazione per Pisa, entrambe in direzione Firenze. Sempre verso Firenze, code tra Scandici e Firenze-Scandici. Ancora in FIPILI, code in uscita a Cascina, provenendo da Pisa. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze, in via La Mendola, fino all'11 febbraio, transito e sosta nel controviale, tra via Giotto e il numero civico 48, interrotti all'altezza di un cantiere. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!